Agricoltori sul piede di guerra contro i pennuti che si nutrono delle loro sementi, i piccioni ingrassano e i raccolti smagriscono. Disperata la famiglia Scalogna chiede che vengano intraprese dei provvedimenti urgenti per contenere la popolazione di questi animali che a Rosciano di Fano hanno trovato un rifugio sicuro nella vecchia fornace abbandonata romai da anni. Anche noi dobbiamo vivere, noi abbiamo la famiglia, abbiamo le spese, abbiamo le tasse da pagare, c'è tutto da fare. Io ho telefonato in provincia, mi ha risposto il guardiacaccia, lo sa cosa mi ha risposto? Mi ha detto, io faccio il guardiacaccia, mica spaventa piccioni. Ha detto, io non c'entro niente, sta gente ci porta in giro da un posto all'altro, i fioi le putene, capite? Noi abbiamo diritto di viva perché quando hanno lavorato, loro quando hanno lavorato alla fine del mese hanno il stipendio e invece butti il seme nella terra e gli animali me li ruinano tutti, i piccioni, i piccioni sono del comune, non sono i miei. Loro li hanno abbandonati queste bestie, ci devono pensare, se no andano a pagare le spese, devono pagare i danni. E la situazione è davvero critica, pensate che i signori Scalogna sono proprietari di 11 ettari di terreno, ma come ci fanno vedere, i semi di girasole non fanno nemmeno in tempo a germogliare, che già diventano un cibo prelibato per i piccioni. Nascono così, allora cosa li fanno? Si vede? Ecco, li stroncono la testina, li stroncono la testina e ci rimane il gambo, questo non viene fuori più, perché gli ha levato la luce. Come nascono, fanno tutti così. E a quanto pare non servono a nulla nemmeno gli spaventapasseri, né i cannoni a gas, addetti scacciauccelli, come questo, che producono forti colpi per mettere in fuga i volatili, o almeno dovrebbero, perché ormai si sono abituati anche a questo rumore. Se quest'anno ce ne sono 100 coppie, per un altro anno ce ne sono 4-500. E noi, poveri produttori, cosa dobbiamo fare? C'era la fornace, è capito, la fornace ha chiuso, i capannoni sono rimasti tutti lì, i piccioni cosa hanno fatto? Ha fatto il nido sopra le cose del capannone. Volevo chiedere solamente al sindaco che questi piccioni sono i suoi, no, i suoi, sono del comune, è capito? Anche loro devono sapere che c'è tutti questi piccioni, il danno che fanno non è a lui, il danno è a noi. E noi questa mattina abbiamo girato l'appello al sindaco di Fano Seri, che ha già sollecitato gli uffici per capire come poter risolvere il problema che riguarda diverse zone della città. Un problema serio che non va sottovalutato, come del resto qualche problema ce l'abbiamo anche nel centro storico, dove ci stanno creando dei problemi su alcuni monumenti importanti della città. Però dobbiamo anche sapere che i piccioni sono una specie particolare, perché alcuni strumenti per tenere lontani erano già stati adottati. Poi quando scoprono che questi sono innocui non hanno più paura, adesso stanno cercando di capire come intervenire, sapendo che non è una cosa facilissima e immediata. Però non prendiamo sul serio questa problematica e spero già nei prossimi giorni di poter dire quale scelte, quali strumenti stiamo adottando per poter intervenire.